Ringrazio le signore dei Gergenti per questi belli complimenti. Ringrazio le signore dei Gergenti per questi belli complimenti. Con il taglio delle nostre mani ringraziamo questi generosi paesani. E io ringrazio per questo rinfresco che è il più bello che tutto il mondo racconta. Ringrazio la signora Amanda e poi ringrazio anche la signora Giovannina. Te le lascio una collana da regina. E ringrazio anche a nome di questa compagnia la signora Maria. E siccome andiamo sempre avanti e mai indietro ringrazio anche il signor Pietro. E sotto a questo pensone ringrazio anche Domenico Emanuele. E infine Emanuele gli vogliamo lasciare con questo panorama altre 100 foto da poter scattare. Ringrazio tutti quanti, muoverò gli evonanti. Andiamo via. Le aspettiamo per i prossimi anni. Un saluto dalla compagnia dei Chizzani. Grazie. Grazie. Grazie.